Presentata a Bari l'edizione 2019 di AgriLevante, l'esposizione internazionale delle tecnologie e delle macchine per l'agricoltura in programma nel quartiere fieristico di Bari dal 10 al 13 ottobre prossimi. Organizzata dalla Federazione Italiana dei Costruttori Federuna Coma insieme con la Fiera del Levante e grazie al sostegno dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia, la rassegna uno stimolo per il mercato delle macchine agricole non soltanto nel mezzogiorno ma nei paesi dell'intero bacino mediterraneo. L'esposizione, che ha acquisito negli anni contenuti tecnici sempre più elevati e una notevole caratura internazionale, punta a superare i risultati della scorsa edizione, quando sono state 330 le industrie espositrici su una superficie di 500.000 metri quadrati con 70.700 visitatori, dei quali 3.200 esteri a partire dalle novità. La presentazione è stata anche l'occasione per fare un focus sul mercato pugliese delle trattrici che risultano in crescita. L'Agrilevante è ormai un appuntamento importante nella dinamica anche agricola regionale perché diventa il luogo e il contesto entro il quale affrontare anche quegli approfondimenti necessari in temi di innovazione, digitalizzazione, nuove tecnologie. La presentazione di oggi è stata l'opportunità per valutare anche i dati e i trend sulle immatricolazioni di nuove macchine e il mercato dell'usato e la Puglia che oggi si attesta come quinta regione in Italia per numero di nuove immatricolazioni evidenzia una vitalità per certi versi anche inattesa e poco pronosticata dagli attenti critici anche delle dinamiche regionali. Questo per me è segno di grande laboriosità, è segno del fatto che le scelte fatte in questi anni hanno contribuito ad accelerare la dinamica degli investimenti ed è di buon auspicio per quelle misure che nei prossimi giorni dovranno essere specificamente dedicate a ulteriori nuovi investimenti con l'opportunità quindi di mettere in campo altri 60 milioni di euro che potranno significare per le nostre aziende maggiore competitività a livello nazionale ed internazionale.